come ormai sapete il 12 febbraio in turchia ci sarà un evento incredibile assolutamente da non perdere east versus west dove vedremo tantissimi incontri interessanti ma in questo video parleremo di due personaggi molto particolari e carismatici michael todd e gennady quiquina due atleti molto furbi e intelligenti al tavolo da una parte abbiamo michael monster todd alto un metro e 90 e con un peso che si aggira tra i 120 e 130 kg è un avversario difficile per tutti e non va mai sottovalutato anche perché è riuscito a battere durante la sua carriera molti top player come devon larrat tim breznan andrei pushkar e denis zevinkov dall'altra parte abbiamo il mostro giorgiano gennady quiquina alto circa un metro 86 per un peso di 140 kg i suoi punti di forza sono la furbizia e l'imprevedibilità grazie a queste sue caratteristiche è riuscito a battere atleti come levanza che nascevili casimir costadino e wagner bortolato ora passiamo alle nostre opinioni ciao a tutti ragazzi questa è la mia sull'incontro tra michael monster todd e gennady quiquina allora vi dico già che questo è l'incontro più atteso almeno da me e sono certo che sarà un incontro stracarico di emozioni perché tutti e due gli atleti provengono da una sconfitta e sicuramente non vorranno perdere quindi sarà una guerra allora da una parte abbiamo michael monster todd dove ormai tutti conoscono qual è la sua tecnica e tutti sanno che cosa farà ma non tutti riescono a contrastarlo dall'altra parte abbiamo gennady quiquina che è una volpe lui cerca la chiave di lettura per qualsiasi arm wrestler e molto spesso la trova quindi penso che farà dei tentativi per capire cosa deve fare e quando avrà capito come entrare nella pressa riuscirà a sconfiggere michael ora non dico che il risultato è così scontato perché comunque tutto è possibile con michael tutto è possibile però io credo che gennady riuscirà a portarsi a casa la vittoria ciao ragazzi per me questo è il match più atteso però qui abbiamo due atleti molto carismatici che hanno energia e grinta da vendere quindi mi aspetto un bel match sotto questo punto di vista a livello tecnico non mi piacciono entrambi soprattutto la king's move di monster michael todd per qui ti ferò per gennady quiquina che mi simpatizza di più però temo che michael todd potrebbe avere la meglio lo do come favorito in questo match ragazzi lasciate like qua sotto commento riguardo alla vostra di opinione riguardo a questo video guardo le cose che volete vedere in futuro sul nostro canale e ci vediamo alla prossima ma chissà cosa c'è l'assunto hello